Presunto patto corruttivo per aggiudicarsi appalti pubblici milionari a Capaccio Pestum e sfiduciare l'allora sindaco Franco Palumbo. La Cassazione nega definitivamente le misure cautelari a carico degli otto indagati. I magistrati della sesta sezione penale infatti hanno dichiarato inammissibili i ricorsi presentati dalla procura di Salerno contro le decisioni assunte dal riesame, i cui giudici il 23 dicembre scorso avevano respinto la richiesta di applicazione di misure cautelari a carico dell'imprenditore di Rocca d'Aspide Roberto D'Angelo, dell'ex presidente del Consiglio Comunale Capaccese Nino Pagano, degli allora consiglieri dissidenti Pasquale Accarino, Francesco Petraglia, Fernando Maria Mucciolo, Nellina Montechiaro e Angelo Merola e dell'ex capo dell'ufficio tecnico Carmine Greco. Nello specifico i PM Russo e Saccone, titolare dell'inchiesta, avevano impugnato nel merito sia la revoca dei domiciliari ottenuta da D'Angelo, ritenuto l'ispiratore del presunto patto corruttivo, che il rigetto in appello avverso la decisione del GIP di non applicare la misura del carcere a carico dello stesso D'Angelo, i domiciliari per Accarino e Pagano e il divieto di dimora per Petraglia, Mucciolo, Montechiaro, Merola e Greco. Sulla scorta dunque di quanto stabilito dagli ermellini, la procura dovrà ora decidere o meno di esercitare l'azione penale, ovvero di chiedere al GUP il rivio a giudizio o l'archiviazione delle accuse a carico dei coinvolti. Vista l'insistenza con la quale sono state richieste le misure cautelari, appare presumibile che i PM chiederanno comunque il processo, ma ai legali difensori degli indagati è concesso produrre nuovi e ulteriori elementi per convincere i PM a chiedere subito di archiviare l'indagine.